Avrà come sede Palazzo Musca, casa natale di San Francesco Caracciolo a Villa Santa Maria, la fondazione dedicata a Peppino Falconio, grande chef e insegnante, scomparso nel 2020. Tante iniziative e cinque borse di studio per i ragazzi del comprensivo di quadri che si iscriveranno all'alberghiero. Nasce a Villa Santa Maria una fondazione per il ricordo di Peppino Falconio. Lei è Francesco Falconio, presidente dell'associazione Figlio di Peppino. Come nasce questa fondazione? La fondazione nasce come una necessità di accelerare un percorso iniziato tre anni fa, dopo la morte di papà insieme ai miei fratelli abbiamo ritenuto opportuno dare indietro qualcosa di quel grosso bagaglio che avevamo avuto in cambio in questi anni. Papà era un appassionato dell'insegnamento, era innamorato dei suoi ragazzi e quindi lo abbiamo vissuto quasi come un obbligo, quello di restituire qualcosa a questi ragazzi. E quindi abbiamo fondato questa associazione come strumento di erogazione di misure di sostegno agli allievi meritevoli. Dopo tre anni ci sono state esigenze nuove e consapevolezze nuove che ci hanno portato a questa forma di upgrade e di accelerazione operativa acquisendo la figura giuridica di fondazione. Insieme a Stefano che è l'altro fratello avete anche presentato numerose iniziative. Sì, il 2024 sarà un anno ricco di iniziative, sicuramente continueremo con le borse di studio con la differenza che saranno non più in uscita quindi per gli studenti già formati cuochi, ma saranno borse di studio in entrata in quanto abbiamo deciso di renderci interpreti di questa difficoltà che vive l'Istituto Alberghiero in questa fase di curva discendente a livello di iscritti. Magnifico rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, oggi è nata questa fondazione e voi siete vicini a questa realtà. Siamo vicini dall'inizio, un legame fortissimo con Peppino Falconio che presentò il suo libro proprio nella facoltà di agraria dell'Università di Teramo ed ero preside allora, quindi un legame fortissimo, una persona in grado di comunicare ma soprattutto di formare benissimo. Quindi non potevamo non essere vicini, vicini anche perché noi ai vincitori dei percorsi prima della Onlus e adesso della fondazione offriamo, vincitori che sono ovviamente delle eccellenze, l'iscrizione gratuita al primo anno dei nostri corsi di laurea legati all'agroalimentare e al settore della gastronomia e della ristorazione.